buongiorno bentrati sul canale parliamo di notizie in inghilterra e volevo riportarvi l'ultima che se aprite la bbc maledetta abbiamo live col pallino rosso che pulsa la notizia che dice bank of england increases interest rate to five percent minchia ragazzi questi non si fermano invo le elite i nostri amici globalisti ci vogliono proprio strizzare spappolare perché questa è un mezzo percentuale di aumento designato a dimostrare come la banca alcuna del controllo sulla inflation sull'inflazione nell'economia inglese sette dei nove membri del comitì hanno deciso di accelerare gli interi tassi di interesse l'aumento di tassi di interesse dato l'aumento dei prezzi visto dall'inflazioni e le informazioni sui sul lavoro jobs data è un aumento più alto di quello che ci si aspettava i più alti tassi di interesse sono intesi sono stati aumentati diciamo scusate le traduzioni ve le faccio così come riesco purtroppo sapete l'inglese non lo conosco bene e quindi l'aumento dei tassi di interesse è stato fatto con la scusa questa è la mia traduzione la mia interpretazione di ridurre l'inflazione dando quindi a chi ha un a chi ha un mutuo meno da spendere cioè pensate che filantropi questi criminali questi usurai questi banchieri questa questa cricca come direbbe qualcuno che conosciamo tutti pensate questi filantropi come si preoccupano di noi e dell'inflazione dicendo che l'inflazione continua a salire quindi i prezzi dei beni eccetera salgono tra l'altro vi farò ridere hanno detto che l'inflazione è diminuita dal 13 per cento 15 quello che era adesso è scesa al 9 e quindi una grande vittoria per l'economia inglese presumo europea e sapete perché è scesa al 9 perché poi non ve lo dicono ve lo devo dire io scesa al 9 perché in primavera i prezzi dell'energia sono crollati visto che nessuno più deve scaldare la casa col gas o tenere accesi i termosifoni tutto il giorno giustamente come dovreste sapere se non se non foste degli ignoranti che vivono con la mamma il prezzo del gas dell'energia scendono in primavera in estate e aumentano in autunno inverno quindi visto che l'inflazione è calcolata a una grossa voce chiamata costo dell'energia nel momento in cui si entra nella stagione calda l'energia esce costa poco e quindi l'inflazione sembra ridotta ma di fatto non è mica ridotta e quindi loro che sono dei filantropi usurai brave persone lo fanno perché credono nel nell'uguaglianza nella nella nel renderci tutti no nel crearci una vita gradevole hanno detto perché non alziamo i tassi di interesse a chi ha un mutuo o chi ha dei prestiti così che il loro potere di acquisto viene eroso quindi mettiamo che guadagnate 3.000 spendete 1.500 di mutuo vi restano 1.500 da spendere in qualsiasi cosa diciamo beh ma se il mutuo te lo alzo a 2.000 te ne restano 1.000 quindi l'inflazione tu secondo questi teorici questi esperti di economia sapete come sono esperti no secondo loro quindi portando la gente con l'acqua alla gola che non riusciranno più a comprare nulla spenderanno tutto lo stipendio per pagare il mutuo oppure il leasing della macchina o quello che è evidentemente non faranno spesa nei supermercati non compreranno biciclette non compreranno vestiti non compreranno vacanze quindi l'inflazione si fermerà che geni che mosse geniali cazzo ok questo è il mio commento da esperto di economia questa è la tredicesima volta di fila che si decide di alzare i tassi di interesse perché siamo passati da tipo uno 0 per cento quasi 0,1 a 5 per cento in quanti mesi boh pochi comunque tredicesima volta ecco di fila che salgono shock figures di ieri mostrano che l'inflazione è ferma all 8,7 per cento come avevo detto è scesa sembra che sia scesa perché anno non c'è più l'energia che conta gli home owners i possessori di casa si preparano a affrontare grandi aumenti nei pagamenti dei mutui con un tasso medio di un mutuo fisso a due anni che toccherà il 6,19 per cento giovedì quindi chi deve rinegoziare il mutuo chi deve fare un mutuo da zero secondo questo articolo da bbc in media rischia di pagare il 6,2 per cento mi dicevo mio mio che è l'otto per cento per la legge italiana e usura quindi valutate voi 6 per cento c'è un rischio quindi cosa dice la banca ha deliribatamente fatto che questo impatto della rata non sarà sentito subito perché non tutti hanno dei mutui da rinnovare o da aprire quindi chi ha il mutuo che scade l'anno prossimo la soffrirà fra un anno non adesso c'è un rischio quindi che i tassi debbano salire di più altrimenti un fiscal study think tank ha detto che il peso dell'inflazione sarà enorme vabbè la banca ancora pensa che l'inflazione scenderà significatamente nei prossimi mesi perché gli energy prices sono scesi e i prezzi del cibo sono diminuiti ma questo aumento dei tassi mette una ulteriore pressione sull'economia ed è fatto apposta perché loro lo fanno apposta loro vi creano le crisi loro prima vi e ci come dei drogati prima ci davano dei mutui al 3 per cento al 2,5 al 2 all'1 e mezzo all'1 lo 0 5 ci hanno viziato per 15 anni con tassi di interesse vicini allo 0 hanno fatto indebitare tutti perché quando il denaro non costa nulla tu vai a far indebitarti più di quello che faresti se ci fossero dei tassi al 6,19 per cento quindi per 15 anni hanno venduto le loro case le loro bolle hanno aperto mutui con costo del denaro ridicolo e poi un bel giorno hanno deciso ma sai cosa adesso adesso mettiamo la marcia quella vera accendiamo il tosaerba spianiamo il popolino e dall'1 per cento li portiamo al 6 per cento e magari salirà ancora quindi qual è l'impatto dello 0,5 per cento di aumento dice che in media un tipico tracker mortgage pagherà 47 pound in più al mese sì tanto che cazzo se ne frega di tenerti 47 pound in tasca regalali alla banca mi sembra giusto 8 di 10 mortgage customers hanno un mutuo a tasso fisso e il loro pagamento mensile non cambierà immediatamente ma chi vuole comprare casa o chiunque cerchi di fare un nuovo mutuo affronterà degli aumenti vertiginosi nei ripagamenti nel momento in cui entrano su un nuovo deals la cosiddetta bomba mutuo è diventato un un grossissimo economico e politico problema in media due i due i mutui a tasso fisso di due anni che erano del 2,29 per cento novembre 21 sono adesso superiore al 6 per cento quindi tre volte li hanno alzati in due anni cosa ne pensate vi piace come cosa tra l'altro c'è un grafico interessante ve lo faccio vedere con la regia mi aiuta antonino in regia guardate UK interest rate rise al 5 per cento guardate come dov'è il mouse regia regia ah ok ci siamo bene 2006 era al 4 e mezzo per cento poi sono arrivati quasi al 6 per cento poi è crollata l'economia ve lo ricordate è crollata vum mezzo per cento mezzo per cento 0,25 probabilmente o giù di lì poi 0,9 poi 0,1 non lo so che numero sia questo e poi cazzo peggio del bitcoin nel 2017 e poi questo pump al 5 che adesso diventa 6 per cento avete visto ragazzi siamo in buone mani possiamo stare sereni le elite i globalisti le banche ci vogliono bene lo fanno solo per controllare l'inflazione e l'inflazione non l'hanno mica creata loro stampando soldi come dei matti negli ultimi tre anni oltre che negli ultimi dieci con lo piacere il quantità di visi poi hanno fatto i furlo e tutte le magie poi hanno cominciato anche a mandare armi dove sapete voi e lì sai come si stampano i billions e poi chi è che lo prende nel culo i pezzenti col mutuo e quelli col mutuo lo prendono in culo quelli che non hanno il mutuo lo prendono in culo due volte perché il loro affitto salirà vertiginosamente non comprano mai casa e quindi come sempre chiudiamo il cerchio con non avrete un cazzo e sarete infelici ciao amici